Salve a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi vi propongo il video del mio primo giro lungo in moto in compagnia della mia ragazza che ho portato con me e con altri tre amici con le proprie moto. Il video risale a fine maggio. Mi raccomando buona visione e se vi piacciono i miei video iscrivetevi così da far crescere il canale. Ciao a tutti e buona visione! Grazie a tutti! 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 Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.